Mica, la stacca stima. Devo mettere le braccia dentro. Vuoi schiacciare un po'? Vai! Ma sempre così è stato? Sì, la devo lavorare. Oggi oltre... Ho fatto pure un nolleggio stamattina, se no ero venuto prima. Buon volo! Buon volo! Divertitevi. Ma è termico? Sì, ci stanno. No, è termico. E' termico, vuol dire che si buca. Vai! Ok? Vai, 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 vai. Corri! 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 Vedi qua davanti, tagliata a metà da una strada, no? No Proprio quella strada che taglia a metà C'è il ponticello con la macchina parcheggiata Esatto Una volta che individuato l'atterraggio Direzione verticale dell'atterraggio Direzione verticale dell'atterraggio Ti prendo, guarda a me Senti la vela, però dai massima velocità Vuoi che arrivi prima possibile sull'atterraggio alto In modo da poter fare poi le manovre, capisci? Ma io ti dico di arabe Guarda la telecamera Ehi! Quando dico tieni la direzione di arabe Vuol dire che tu devi fare i piccoli portamenti di prima E di pezzo Per far andare la vela dritta Capisci? Nel senso che se tu non fai proprio niente Poi prima o poi la vela inizia a girare da qualche altra parte Capisci? Quindi tieni la direzione Significa cercare di tenere la vela dritta Con poco freno Soltamente così La vela dritta Questa è una vela dritta Soltamente così Questa è una vela dritta Di più di questo non va tirato normalmente.